Fallito l'assalto all'alba di oggi alla colonnina Bancomat del distributore di benzina che si trova a fianco dell'aeroporto e di fronte all'impermercato Auchan. I gnoti, almeno 4 se non 5 persone, intorno alle 4 di questa mattina, quando era ancora buio, hanno tentato di sradicare la colonnina dell'automatico attaccandola ad un camion con una fune e poi tentando di abbatterla con il mezzo pesante. Qualcosa deve essere andato storto, anche per il passaggio probabilmente di qualche automobilista. Il mezzo, poi usato dai malviventi, ha iniziato a perdere gasolio e così gli assalitori sono stati costretti ad andare via a mani vuote. Sul posto, oltre alla polizia, sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a bonificare la zona e a bloccare la perdita che avrebbe potuto causare problemi data la vicinanza alle pompe di benzina. All'interno del forziere c'era anche qualche migliaio di euro. Sull'accaduto indagano gli agenti della squadra volante della questora di Pescara. All'interno dell'area di servizio c'è un sistema di videosorveglianza. Le immagini saranno visionate in queste ore dagli investigatori ingenti i danni all'impianto di benzina.